C'è ancora uno spagnolo davanti a tutti. Se al mattino ci ha pensato Ramirez a prendersi i riflettori della minima cilindrata, nel pomeriggio è toccato a Giorgio e Martin recitare la parte di protagonista. L'alfiere Gresini ha infatti bloccato il cronometro sul tempo di 1.39.209, migliorando di quattro decimi il tempo realizzato nella FP1 dal connazionale. Una prestazione di spesore è quella del portacolori Honda, che guida il quartetto spagnolo formato da Aron Canet, più 0.396, Juan Fran Guevara, più 0.667. Chiusa parentesi Tonda e Joan Mir, più 0.755. Di più non potevano aspettarsi gli appassionati locali presenti sulle tribune. Brillano quindi i colori iberici, mentre quelli azzurri faticano a farsi vedere. Il migliore è Romano Fenati, più 0.849, autore del sesto crono alle spalle delle onda di Sasaki, mentre ottavo Fabio Di Gianantonio, costretto a fare i conti con un gap dalla vetta che sfiora il secondo, più 0.925. Durante la sessione si sono vissuti veri e propri momenti di paura in pista per l'Igside, che ha visto protagonista Nacarina Tiratpuvapat.al. momento il pilota è al centro medico per sottoporsi a controlli approfonditi. Sul finire del turno anche Niccolo Antonelli è stato sbalzato dalla propria moto a causa di un violento Igside e lo sfortunato Niccolo Bulega non ha potuto fare nulla per evitare la KTM del connazionale, centrandola in pieno. Al momento anche il portacolori dello Skyracing T e AMVR 46 è al centro medico per controlli alla caviglia. Tornando ai tempi, nella top ten c'è anche spazio per Enia Bastianini, decimo, più 1.047, due posizioni più arretrato la Wildcard Dennis Foggia, diciassettesimo Bezzecchi, seguito da Dallaporta e Migno. Nelle retrovie Antonelli, Pagliani e Arbolino.